Salve, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale, manca poco ormai alla stagione balneare, l'ASP ha avviato il monitoraggio delle acque del litorale siracusano, la situazione è sostanzialmente buona. Promette bene la stagione balneare su tutto il litorale siracusano. Dai rilievi eseguiti nel mese di marzo, infatti, è emersa una situazione del tutto tranquillizzante rispetto alla qualità delle acque di balneazione. Aperta ufficialmente il 1 aprile, la stagione balneare si concluderà il 31 ottobre, così come stabilito dal decreto assessoriale del 17 febbraio scorso. Già dall'ultima decada di marzo di quest'anno, l'ASP 8 di Siracusa ha dato il via alla campagna di monitoraggio delle acque di balneazione per verificare la qualità delle acque di mare in tutte le zone del territorio provinciale, in cui è consentita la balneazione. L'azienda sanitaria provinciale ha elaborato un programma di campionamento che copre la durata della stagione balneare e vede impegnati i tecnici della prevenzione in una serie di sopralluoghi e nei prelievi delle acque di mare. Gli esiti delle analisi preliminari effettuate dalle laboratori di sanità pubblica dell'ASP 8 diretto da Annunzi Andolfi sono tutti favorevoli rispetto ai campioni prelevati nel mese di marzo, a conferma della buona qualità delle acque di balneazione della provincia. Ad Avola tornano ad essere balneabili le spiagge di Mare Vecchio e di Contrada Zuccara, che dopo l'entrata in funzione del depuratore comunale e l'eliminazione del relativo scarico fognario, sono state promosse a pieni voti dal monitoraggio effettuato la scorsa stagione. Verso la direzione del ritorno alla balneabilità sono altre località che in precedenza presentavano dei problemi. In tal senso l'ASP ha previsto il monitoraggio di altre quattro aree, di cui tre nel territorio di Augusta e uno a Siracusa, nella zona B dell'area marina protetta del Plemmirio, per la quale il comune di Siracusa ha chiesto il ripristino alla balneazione di un tratto di circa 860 metri, che verrà monitorato attraverso il punto di studio denominato Metri 400 Sud Punta del Gigante. Altra novità riguarda i cartelli di divieto di balneazione che dovranno rispettare precise dimensioni e inoltre contenere le informazioni in almeno due lingue. Il monitoraggio delle acque di mare proseguirà per tutta la durata della stagione balneare con campionamenti mensili. La rubrica La spina del fianco sulla gestione dell'acqua nel comune di Siracusa la Guardia di Finanza segnala un danno irradiale di oltre 2 milioni alla Corte dei Conti, ma rimane l'esposizione al pagamento per le famiglie siracusane. In Italia le famiglie sono costrette a pagare l'acqua non sempre potabile, con l'aggiunta del costo della corruzione. Il fatto che fa arrabbiare di più i cittadini non è lo spreco del pubblico denaro, ma la corruzione che si nasconde dietro il paravento della legalità che non c'è. La Guardia di Finanza di Siracusa ha segnalato alla procura regionale della Corte dei Conti di Palermo un danno irradiale per 2 milioni 808 mila euro a carico del sindaco del comune di Siracusa Giancarlo Garozzo, del dirigente del settore lavori pubblici ingegner Natale Borgione e del direttore generale della società affidataria, la Siam, per l'anno 2015 e per il primo trimestre del 2016 Enrico Iansiti. Nell'allarme corruzione nella pubblica amministrazione da parte della Corte dei Conti, dove i controlli interni ed esterni sull'amministrazione non sono pienamente adeguati, viene l'attuale situazione una scarsa efficacia e di pochezza di effetti efficienti. Insomma, corruzione e concussione incidono sul prezzo degli appalti e danneggiano l'immagine della pubblica amministrazione e le tasche dei cittadini. Sull'indagine che ha portato alla denuncia del danno irradiale da parte della Guardia di Finanza di Siracusa, atto dovuto perché notizia di reato, dopo l'inchiesta della Procura della Repubblica di Siracusa, per l'intrigata vicenda della concessione del servizio idrico del comune di Siracusa e Solarino alla Siam, ci sono ancora oggi sussurri e grida. L'accusa è rimasta in piedi per Garozza e Borgione e di turbativa d'asta in concorso. I due, secondo la Procura, avrebbero procurato un ingiusto vantaggio alla società Siam, che si è poi aggiudicato l'appalto della gestione del servizio idrico e della depurazione nei comuni di Siracusa e Solarino. Il provvedimento della richiesta di rinvia giudizio per l'inchiesta diretta fin dall'inizio dal procuratore capo Francesco Paolo Giordano, passata poi sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Fabio Scavone, è stato firmato dai pubblici ministeri Giancarlo Longo e Marco Di Mauro, a conclusione delle indagini delegate alla Guardia di Finanza per ben due anni e quattro proroghe per un'inchiesta giudiziaria abbastanza complessa e capziosa. Le polemiche esplosero anche negli equilibri in ambito politico-elettorale e nelle amministrative che portarono Garozzo al Vermexio. Dopo una serie di accordi, di nomine, di consulenti senza compenso, ma poi passati armi e bagagli a dirigere ancora una volta il servizio idrico della città di Siracusa. L'approfondimento e l'analisi della documentazione hanno consentito alle fiamme gialle del comando di Siracusa di segnalare alla magistratura contabile i tre responsabili che, insolido tra loro, avrebbero arrecato un danno all'erario per oltre 2 milioni 800 mila euro a proposito di due tipologie di danno, quello cosiddetto alla concorrenza e quello da utile d'impresa. Il seppellimento di Santa Lucia, il quadro del Caravaggio, resta alla chiesa di Santa Lucia all'Abbadia. Si era parlato di un possibile trasferimento a Tormina, pericolo scongiurato, ma forse questo pericolo in realtà non c'era neanche. Piazza Duomo in Ortigia, alle nostre spalle, la chiesa di Santa Lucia all'Abbadia, al cui interno, è conservato uno dei capolavori di Caravaggio, di Michelangelo Merisi, ovvero il seppellimento di Santa Lucia. Si è molto parlato negli scorsi giorni del pericolo paventato che in qualche maniera il dipinto fosse in procinto di essere trasferito a Tormina, a Palazzo Corvaia, per una mostra dei siti UNESCO. Se ne è molto parlato, ha creato anche molto clamore, intellettuali, storici siracusani si sono messi subito sulle barricate per sostenere che fosse assolutamente non necessario, non soltanto, ma anche pericoloso spostare il quadro. La sovrintendente, qui a qualche passo dalla chiesa all'interno della sovrintendenza di Siracusa, la sovrintendente Pambini, ha chiarito ciò che già sembrava piuttosto ovvio, ovvero che si trattasse poi nei conti di una bufala. Infatti la partecipazione del quadro alla mostra era stata annunciata soltanto dal curatore della mostra stessa, non era mai stata fatta una richiesta simile da Palermo, non era mai arrivato alla Pambini alcuna richiesta di poter prestare il quadro. Si era paventato anche il pericolo che fosse spostato il quadro di Antonello da Messina, l'annunciazione, da Palermo arrivano rassicurazioni anche su questo, benché si trattasse, pare, proprio di un blef, non era mai stata fatta richiesta ufficiale perché il quadro venisse spostato, tutto si è risolto così in una serie di smentite di fatto al nulla. Parliamo di trasporti, rinnovato il contratto di lavoro dei dipendenti dell'Ast. Intesa raggiunta tra Filt CGL e la drigenza dell'Ast. Il nuovo contratto contempla il premio di risultato valido per il triennio 2017-2019 che, come afferma Vera Uccello, segretario della Filt CGL di Siracusa, si articola su 5 punti ed è variabile e calcolato. In base ai risultati conseguiti dal dipendente non rientra nella normale retribuzione prevista dal contratto e comprensivo di tutte le incidenze retributive, è escluso dal TFR e beneficia delle norme di detassazione. In questo modo non solo si incentiva il personale ad elevare la qualità delle prestazioni, ma di conseguenza si migliora il servizio. Il premio non supererà il 12% della retribuzione annuale del dipendente. Nel rinnovo del contratto sono inclusi anche i buoni pasto, pari a 8 euro cada uno. Per il sindacato si tratta di un ottimo accordo che tutela i diritti dei lavoratori e contemporaneamente migliora i trasporti pubblici locali. Uno stallo per parcheggiare per 15 minuti accanto al santuario della Madonna delle Lacrime sta suscitando curiosità. Santuario della Madonna delle Lacrime nel suo ingresso posteriore sta suscitando un po' di curiosità la novità che c'è proprio qui all'ingresso, ovvero uno stallo di 15 minuti proprio davanti all'ingresso che forse in qualche maniera può risolvere il problema delle automobili che si posteggiavano più avanti dove in realtà si fermano gli autobus turistici e non soltanto. In questo caso lo stallo davanti all'ingresso sta creando un po' di curiosità perché in 15 minuti posteggiando qua cosa si potrebbe risolvere. Lo stallo intanto ha incontrato il favore dei cittadini che ne stanno facendo un grande uso cercando anche di rispettare l'indicazione oraria contenuta nel cartello. Non tutti probabilmente riescono a rispettare lo spazio di 15 minuti ma per lo più il rientro in automobile per timore anche delle sanzioni sarebbe regolare. Gli esercenti delle bancarelle di gadget e materiale sacro nei paraggi hanno così un'opportunità in più per essere avvicinati da curiosi acquirenti mentre pare improbabile che l'utilizzo dello stallo sia vantaggio di chi debba recarsi al santuario proprio per l'eseguità del tempo a disposizione che permetterebbe soltanto una rapida capatina. Lo sport è il Siracusa atteso per una trasferta importante a Catanzaro. Ultimo allenamento in sede questa mattina per il Siracusa e dopo pranzo partenza la volta di Catanzaro. Gli azzurri preparano gli ultimi dettagli in vista della seconda trasferta consecutiva in terra calabrese. La gara in programma domani pomeriggio alle 16.30. I giocatori di Andrea Sottil sono a caccia della terza vittoria consecutiva dopo aver conquistato i tre punti contro Casertana e Cosenza. Le due squadre si trovano comunque in piena zona play-off. Discorso opposto per il Catanzaro che invece lotta per evitare play-out. I giallorossi sono reduci dalla sconfitta nell'erbi del granillo contro la regina. Turati e compagni troveranno di fronte i giocatori motivati quando mancano quattro gare alla conclusione della stagione regolare. Gironecci sempre più incerto specialmente nei bassi fondi della classifica dove si trova un Catanzaro disperato e a caccia di punti che gli potrebbero consentire di uscire dalla zona play-out. È una missione difficile ma non impossibile quella cui sono chiamati a compiere i giallorossi obbligati a fare risultato pieno in tutte le restanti gare se vogliono avere speranze di rimanere in terza serie senza passare dalla terribile lotteria degli spareggi. Catanzaro alle prese con le assenze per squalifica del portiere De Lucia e del terzino esposito così nel 4-4-2 Leone difenderà in porta. Mascoloni torna a destra mentre al centro con Prestia è in dubbio si irripatti considerando che il primo è acciaccato. Sabato agirà a sinistra centrocampo Mancosu favorito sul rientrante Kunzi come esterno poi Maita Varasvik Icardi attacco Giovinco Sarau. Possibile un posto in panchina anche per l'esterno Zanini nuovamente disponibile dopo la distorsione al ginocchio di qualche settimana fa. Modola una punta invece per il Siracusa che scenderà in campo con il 4-2-3-1 davanti a Santuro, Brumatte e Salerno Terzini con coppia centrale Turati-Pirello, Giordano e Spinelli in mediana, trequartisti Azzi-De Silvestri e l'unico di turno Longoni dietro Scardina. E ancora calcio festa grande a Lentini per la promozione in Lega Pro. La città di Lentini ha festeggiato la promozione della squadra di calcio nel campionato di Lega Pro. La Sicula Leonzo infatti pur avendo perso contro il Rende ha conquistato la matematica certezza della promozione in Serie C per la concomitante sconfitta in casa della Cavese contro il Roccella, l'unica che avrebbe potuto insidiare il primato della squadra lentinese. A tre giornate dalla fine del campionato di Serie D la Sicula Leonzio mantiene i 10 punti di vantaggio sui campani, margine ormai incolmabile. Dopo 20 anni il calcio a Lentini si riaffaccia nel professionismo pronto a rinverdire i fasti dell'allora atletico Leonzio. La Sicula Leonzio è nata tre anni fa con la vittoria del campionato di promozione e poi in sequenza con il successo in quello di eccellenza e adesso nella Serie D. Al timone della società c'è Giuseppe Leonardi mentre la squadra è affidata al tecnico Ciccio Cozza che ha ereditato l'11 bianconero da Sebi Catania. Bene con questo è tutto, il Te Giornale si conclude, vi auguriamo un buon prossimo momento di programma. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.